Siamo alla politica che è a lavoro sulla formazione delle liste in vista delle elezioni del 4 marzo. Oggi scadeva il termine per le autocandidature dei 5 Stelle, talmente tante quelle che sono arrivate che il sito, la piattaforma online dei 5 Stelle è andata praticamente in tilt. Ed è di oggi anche una notizia sulla Raggi che chiede giudizio immediato nel procedimento sul caso nomine in Campidoglio. Ce ne parla Valentina Antonella. Nessun tilt, solo grande partecipazione è la replica del movimento a chi tra gli avversari per tutta la giornata aveva ironizzato sulle difficoltà nel registrarsi, step fondamentale per autocandidarsi e aspirare a un seggio nel proporzionale. Il boom di accessi ha spinto ad una proroga del termine, slittato dalle 12 alle 17, ma nomi e numeri arriveranno ufficialmente solo a metà gennaio con le parlamentarie, il voto online che designerà la potenziale squadra di deputati e senatori. Verso la ricandidatura i parlamentari uscenti si è chiamata invece fuori la senatrice Serra. Soddisfatti big, proteste per i ritardi dagli iscritti, potenziali candidati sui quali l'ultima parola sarà comunque quella di Di Maio, che oggi liquidando chi lo dava solo in corsa in un seggio sicuro del proporzionale, è una fake news, ha alzato il tiro. Le liste bloccate noi non le facciamo decidendolo nelle segrete stanze di partito, ma lo facciamo con consultazioni pubbliche. Chiedo alle altre forze politiche che ci stanno facendo la morale su come selezioniamo i nostri candidati, cosa intendano fare con le liste bloccate. Nessun commento invece sui richiami del garante per la privacy a Rousseau, la piattaforma per il voto online accusata di obsolescenza e di aver contribuito a violare le banche dati degli iscritti. Raccomandazioni già raccolte la risposta dell'associazione e nulla sul caso Raggi, che indagata per falso in atto pubblico per le nomine in Campidoglio, ha chiesto il giudizio immediato. La mossa fa saltare l'udienza davanti al GUP del 9 di gennaio ed eviterebbe alla sindaca i riflettori di un possibile processo in piena campagna elettorale.